Tutto pronto? Partite del Cavale dell'Esseregno 2013 Come dò copione a largo avanza Raina Cross che si porta subito in maniera anche piuttosto spedita a condurre a secondo Lady Silvi che precede Shazir Roses che si è posizionata al terzo conterramente al gardone qui si tira via nella prima fase con Raina Cross che ha subito preso chiaro margine rispetto al resto del gruppo che segue allungando alle sue spalle sempre capeggiato da Lady Silvi in giubba azzurra al terzo Shazir Roses con all'interno Shamar Love poi ancora Mangia Pregama e Nuage d'Argent che chiude il sestetto in fuga Raina Cross un margine ancora ampio su Lady Silvi che ha l'ingrato compito di fare l'elastico Lady Silvi che a sua volta ha preso vantaggio rispetto alle altre quattro capeggiate sempre da Shazir Roses a largo invece Mangia Pregama in giubba verde a chiudere Nuage d'Argent in giubba scacchi passata l'intersezione Raina Cross ancora saldamente all'avanguardia Lady Silvi in seconda in terza rimane ancora Shamar Love con a largo Mangia Pregama all'interno Nuage d'Argent in giubba gialla Shazir Roses Raina Cross è ancora in fuga quando ormai siamo in vista del paletto di 400 Lady Silvi, Shamar Love, Mangia Pregama all'interno Nuage d'Argent poi Shazir Roses che lotta per trovare lo spazio e ancora davanti Raina Cross il gruppone delle cattive si avvicina Shamar Love a largo Mangia Pregama Nuage d'Argent all'interno Mangia Pregama che scatta a largo di Raina Cross Mangia Pregama che passa su Raina Cross che prova l'ultimissima difesa ma non ce n'è Mangia Pregama, 1-2 per la Blueberry che vince anche Seregno al secondo Raina Cross al terzo è ancora Nuage d'Argent poi Shazir Roses ancora la scuderia Blueberry ancora Dario Vargio ancora Bruno Grizzetti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti